Proseguono per tutta l'estate gli appuntamenti della rassegna teatrale Vucci dei luoghi, guerra e resistenza 1940-1945, lettura e musica 2013, promossa dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con il Comitato della provincia di Torino e Luncem. Sabato 10 agosto a Malesco nel VCO e giovedì 22 agosto a Rocca Sparvera, provincia di Cuneo, Assemblea Teatro propone lo spettacolo L'inafferrabile, in bici con Bartali e in Moto con Lulu. Sempre sabato 10 agosto dal Pette provincia di Torino, la compagnia 3001 interpreta la ragazza partigiana.